Secondo il gossip, in passato Romina Power avrebbe tradito Albano con Lorenzo Crespi, vediamo come avrebbe reagito Carrisi a questo doloroso evento, che sembra essere stata una delle cause della fine del matrimonio con la cantante. Punto coppia nella vita professionale e personale, Romina Power e Albano Carrisi hanno fatto sognare intere generazioni con le loro voci uniche e con la loro storia da batticuore, dalla quale sono nati i figli Ilenia, Romina Junior, Cristelle e Iari. Dopo 25 anni di matrimonio, però, qualcosa si è spezzato, portando alla rottura, per il dispiacere dei fan, da sempre desiderosi di rivederli tornare insieme. Ma così non è stato, pur essendo rimasti in buoni rapporti, continuando a lavorare, insieme, la relazione tra i due artisti non ha conosciuto un nuovo corso. Nel cuore di Albano è entrata Loredana Lecciso, con la quale ha avuto i figli Jasmine e Albano J.R., ed è tutt'oggi accoppiato. Malgrado i due non si sono mai sposati, stanno insieme da 20 anni, essendo uniti da un forte sentimento. Tuttavia, il triangolo Lecciso, Albano e Lecciso ha fatto parlare molto in questi anni. Ma non è l'unico, secondo il Gossip, durante il loro matrimonio, Romina avrebbe avuto una liaison con Lorenzo Crespi. Il divorzio tra Romina Power e Albano è arrivato nel 2012, anche se la crisi era scoppiata ben prima. In particolare, la scomparsa misteriosa della figlia Ilenia, sparita nel nulla e mai più ritrovata, ha portato a una frattura fortissima tra gli artisti, mai più rientrata. Romina si è chiusa nella sua sofferenza e la distanza con il marito ha preso largo, portando a loro addio. Ma secondo il Gossip, questo non sarebbe l'unico motivo. La Power, infatti, avrebbe tradito Carrisi con Lorenzo Crespi, indiscrezione mai confermata però dai diretti interessati. Romina Power e il flirt con Lorenzo Crespi, i dettagli del Gossip Al secolo Vincenzo Leopizzi, Lorenzo Crespi è un noto attore di film e fiction. Partito come modello, fin da giovanissimo è approdato su set, recitando in soap del calibro di Carabinieri e Gente di Mare. Concorrente di Ballando con le stelle, l'attore è finito al centro di scottanti indiscrezioni che lo vedrebbero aver intrecciato una storia con Romina Power, alla fine del suo matrimonio con Albano. Il cantante di Cellino San Marco avrebbe sofferto moltissimo per questo tradimento, che però non è mai stato confermato, si tratta solo di voci di corridoio, secondo le quali per Carrisi sarebbe stata durissima riprendersi dopo che Romina ha avuto la relazione extracognugale con Crespi, tra i motivi che avrebbe portato alla fine del loro matrimonio. Ciao!